Uno dei problemi che molte persone riscontrano in questo periodo è che non sanno quando allenarsi. Quindi non sanno se allenarsi la mattina, mi alleno al pomeriggio, mi alleno alla sera, oppure mi alleno durante la pausa pranzo. Allora, come allenarsi in pausa pranzo? Durante le mie giornate spesso mi alleno in pausa pranzo, oggi scenderò in palestra proprio per farvi vedere quelli che sono tre esercizi per la parte superiore. Venite con me! Eccomi, sono qui in palestra, sono appena arrivato. Allora, vi faccio vedere i tre sercifichi che vi ho promesso utilizzando i manubri, un bilanciere e un disco. D'accordo? Unite con me! D'accordo? Unite con me! D'accordo? Unite con me! bene ragazzi ho appena finito gli esercizi sono stati belli, intensi e veloci ne ho fatti tre uno per lavorare la parte anteriore quindi pettorali uno per le spalle l'altro come avete visto il secondo per quanto riguarda i muscoli della schiena vi dico quindi che è possibile fare un esercizio veloce e rapido anche quando avete poco tempo in pausa pranzo alla prossima ciao ciao